E' notizia di pochi giorni fa l'avvelenamento e la conseguente morte di un passore tedesco che portato al guinzaglio dal suo padrone all'interno del parco Sartori di Cremona ha inavvertitamente ingerito un boccone killer lasciato da un individuo non ancora rintracciato che ha causato volontariamente il decesso dell'amico a quattro zampe. Sull'accaduto si è espresso il comitato di quartiere 10, indignato non solo per il tragico evento ma anche per la situazione in cui verte il parco stesso. La carenza di illuminazione nonché la scarsa presenza di telecamere hanno probabilmente favorito il gesso illecito. Una criticità presentata più volte dallo stesso comitato in vano. Una signora passa, va in giro col suo cane, fa la sua bella passeggiata col suo cane e poi si ritrova in una situazione molto sgradevole anche per quel povero cane. Che colpa ne hanno le belle bestie? Non abbiamo controllo, non abbiamo telecamere, non c'è sicurezza su questo parco, non c'è niente. Anzi forse c'è una telecamera, non so se funziona o meno. E poi ce n'è un'altra laggiù in fondo dove c'è l'asilo, che quella lì è messa là per bellezza perché per me è per bellezza perché non c'è niente. Questo parco invece di migliorarlo l'hanno peggiorato. Io ho chiesto anche alla vice sindaco di fare un sopralluogo insieme, così vedevamo tutti i problemi. Ancora la sto aspettando. Il consigliere del comitato di quartiere Giovanna Orrio incalza sulle criticità del parco Sartori. Ci sono anche altre criticità, tra le quali il vialetto per il cosiddetto accesso per i disabili, mamme col passeggino, in condizioni pietose, oltre anche al fondo stradale, pieno di buche. E un'altra cosa, aggiungo, il ponticello del Morbasco, che avevano detto che l'avrebbero sistemato nel secondo semestre del 2024, però non so fino a che punto questo avverrà. Tra i tanti problemi presenti nel parco Sartori, inoltre, il comitato di quartiere segnala la rottura di un tombino di pietra e raccomanda la massima attenzione ai cittadini.